Il giornale di oggi è particolarmente importante per me e per tutti noi di FCA per diversi motivi. Penso alla Campagnola degli anni 50, penso anche alle nuovissime a Ferromeo Giulia Quadrifoglio, che sono destinate a interventi speciali. Il mio padre è un maesciallo dei Carabinieri, sono cresciuto tra le uniforme a bande rosse nell'arma, ritrovo sempre gli stessi valori che sono stati alla base della mia educazione. Per tutti questi motivi è qui un grande onore, un privilegio per me poter consegnare oggi, a nome di tutta la FIA Chrysler, le chiavi di questo Jeep Wrangler al Comandante Ministro. Grazie a tutti! Grazie a tutti!